Ciao a tutti ragazzi, ecco qua come ogni 20 del mese con un'analart dedicata ad una serie tv. Questo è il quinto appuntamento con questa rubrica e anche questa volta vi faccio vedere una serie tv che sto adorando davvero molto. E dal successo che ho avuto credo proprio che nessuno di voi non sappia appunto di cosa parla questa serie e cioè appunto Game of Thrones, un italiano il trono di spade. Qui sotto nell'info box trovate come sempre il link al post che ho creato sul blog dove vi parlo di questa serie. Adesso passiamo subito all'analart. Ho voluto ricreare gli stemmi delle case che appunto più mi piacciono e cioè casa Baratheon, casa Stark, casa Lannister, casa Greyjoy e casa Targaryen. Ricreando il colore, il simbolo e anche il motto in inglese di queste case. L'ho scritto semplicemente in inglese perché era più corto. Mi rendo conto che i disegni non sono venuti per niente bene e alcuni sono davvero imprecisi e bruttissimi da vedere. Solo che in una superficie così piccola e con gli smalti non è davvero semplice. Usando gli acrilici il risultato sarà sicuramente meglio. Ho applicato un base di spray su tutte le unghie e poi adesso cominciamo con il simbolo dei Greyjoy. Ho applicato uno smalto nero su tante all'unghia e una volta asciutto con un pennellino della punta fine e uno smalto giallo comincio a fare questa specie di calamaro gigante. Faccio dei puntini guida e poi faccio una prima bozza. Cerco di seguire più fedelmente l'immagine. Una volta asciutta la prima bozza prendo un pennellino della punta fine e uno smalto nero e rendo più fine alcuni tentacoli e sistemo appunto alcuni bordi. Faccio anche due puntini per creare gli occhi. Poi con il pennellino della punta fine e lo smalto bianco scrivo il motto in inglese cioè We do not sew che sarebbe noi non seminiamo. Passiamo adesso alla casa Targaryen e lo stemmer affigura un cerchio creato da un drago a tre teste. Quindi appunto comincio a fare i puntini per creare il cerchio e poi faccio il meglio possibile queste tre teste e il drago. Purtroppo sul nero il rosso si vede un po' poco e infatti non si distingue molto bene il disegno. Una volta fatta la prima bozza con lo smalto rosso prendo il dotter della punta d'ago e comincio a fare tanti piccoli puntini e lignette per creare le scaglie dei draghi appunto. Sia ai bordi che appunto all'interno dell'ala. Dopodiché anche qui prendo lo smalto bianco, un pennellino della punta fina e scrivo il motto in inglese sempre che è Fire and Blood solo che la D non mi è entrata quindi scrivo tanto Blow e in italiano è Fuoco e Sangue. Adesso passiamo alla casa Lannister che è quella che mi è venuta davvero malissimo e lo stemma è un leone in piedi quindi dopo aver steso uno smalto rosso prendo lo smalto giallo e un pennellino fine e comincio a fare appunto questo leone prima faccio dei puntini guida e poi appunto faccio anche la figura che è venuta orrendissima e per sistemarla un po' ho fatto delle sfumature arancioni lì dove ci dovranno essere delle ombre e con lo stesso dotter ad ago ho fatto anche qui alcuni punti della criniera e della coda e poi con un pennellino della punta fine ho scritto il motto che è Hair Mirror o in italiano Udite il mio ruggito passiamo adesso ai Baratheon ho fatto una base gialla e poi siccome il simbolo sarebbe un cervo ho fatto appunto queste corna di cervo semplicemente con il nero come se fossero appunto dei rami poi ho scritto il motto che però mi sono scuolevano a R quindi sarebbe dovuto essere Horse is the Fury che è appunto nostra è la Furia e come ultima la casa Stark che il loro simbolo è il lupo quindi su una base bianca sono andata a fare questa testa di lupo che anche qui non mi è venuta benissimo però ho cercato di farla più simile possibile appunto con la testa di lupo e poi per fare le sfumature sul corpo del lupo ho preso un po' di bianco sul pennellino e l'ho passato così in modo irregolare su appunto il collo e poi per fumarlo ho ripassato nello stesso modo un po' di nero con il bianco ho fatto anche l'occhio e ho sistemato un po' i bordi e poi con il pennellino della punta fine e lo smalto nero ho scritto il motto che sarebbe Winter is coming e cioè l'inverno sta arrivando e come ultima cosa sicilla tutto quanto con il top coat e questa è un'altra definita anche se non è venuta benissimo ci tenevo a caricarla perché questo telefilm è davvero molto bello e se non avete visto vi consiglio di vederlo il mio personaggio preferito è ovviamente Calisi però mi piace molto anche la casa Stark e qualcuno della casa Lannister ma per saperne di più vi ricordo qui sotto il link al posto sul blog fatemi sapere la vostra preferita qui sotto nei commenti un grosso bacio alla prossima ciao